2192 evasori totali è il risultato della maxi operazione portata avanti dalla guardia di finanza che ha condotto controlli in tutta italia a tradire gli evasori è stato il loro elevato tenore di vita macchine di grossa cilindrata ville da sogno e viaggi esclusivi un'evasione trasversale che era diffusa in varie categorie sociali dai commercianti agli imprenditori edili ai professionisti oltre 6 miliardi di euro sono stati occultati nei primi quattro mesi dell'anno la guardia di finanza ha poi individuato 650 milioni di euro non dichiarati per mancata fatturazione sono state denunciate dall'autorità giudiziaria 853 persone che non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi e altre 530 per occultamento o distruzione della contabilità